buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di investire.biz e bentornati a un'altra puntata di Turbo daily questa mattina con il nostro recap settimanale andremo a vedere quali sono le operazioni che abbiamo in portafoglio vedremo anche eventualmente di effettuare un'operazione un trade per riequilibrare quelle che sono appunto le operazioni che abbiamo in essere che abbiamo aperto nelle puntate precedenti diciamo innanzitutto che al momento stiamo continuando ad assistere a prese di beneficio come abbiamo anche anticipato nelle precedenti puntate ma sono sostanzialmente prese di profitto che non ci preoccupano in quanto ricordiamo che i mercati stanno apprezzando comunque le ultime notizie quali la campagna sul vaccino quali anche lo stimolo da parte di nuovi stimoli da parte dell'amministrazione Biden sul pacchetto fiscale quindi insomma sono tutte notizie che danno portano un sentiment positivo al mercato quindi è normale che ci possano essere queste prese di beneficio infatti già questa mattina indici americani ed europei aprono leggermente in territorio negativo oggi in realtà vorrei focalizzarmi in particolar modo sul sul mercato europeo però prima di anticiparvi qual è il tre di oggi vorrei prima fare il recap di quelle che sono le operazioni in portafoglio andiamo quindi sulla nostra piattaforma per mostrare appunto cosa abbiamo in pancia al momento siamo rialzisti su amazon e su oro e ribassisti sugli indici europei in particolar modo sul dax e sul fusimi come potete vedere dalla nostra piattaforma visto che siamo principalmente ribassisti sugli indici europei ho ipotizzato questa mattina di effettuare un trade a rialzo proprio sull'euro stocks vi ricordo che l'abbiamo già proposto nelle settimane nelle puntate precedenti lo riproponiamo questa volta con un livello di ingresso che leggermente più vicino al prezzo di mercato quindi spostiamoci sul grafico quali sono i livelli operativi sull'euro stocks un livello di ingresso a 3625 punti uno stop loss molto stretto a 3530 punti un target infine a 3760 ovviamente l'euro stocks è in trend rialzista l'euro stocks è vicino ai massimi pre covid quindi comunque effettuare un trader rialzista da questi livelli che sono già abbastanza alti non è rischioso ma comunque bisogna stare molto attenti e per questo motivo ho impostato uno stop loss non sotto i minimi delle settimane precedenti ma leggermente più in alto quindi cerchiamo di rimanere in trend sfruttando un trade a rialzo spostiamoci sul sito di BNP Paribas per mostrarvi il certificato in questa volta abbiamo scelto un certificato con una leva molto bassa 5,88 quindi il certificato è questo che termina col codice di 56 uno strike a 3000 punti una distanza dal knock out del 18 per cento circa una scadenza al 16 giugno e infine un prezzo lettera a 6 euro e 27 quindi andiamo anzi torniamo sulla piattaforma operativa così vi mostro il prezzo che ho scelto che è 5 euro e 90 quindi il più possibile vicino al prezzo di mercato di adesso e per cento centosessantanove pezzi eseguiamo il nostro ordine e facciamo un breve recap dell'operazione di oggi il sottostante l'euro stocks per una strategia a rialzo ingresso 3.625 punti stop loss 3.530 infine target a 3.760 punti per oggi è tutto io come sempre vi do appuntamento direttamente a lunedì prossimo e vi auguro buon weekend